Il 2019 avrete notato che sulle vostre serie questa sera c'è appunto delle schede di Eva Rager quindi potete tenerle, c'è un regalo da parte sua e oltre a questo non vedete anche che quando le viste sfileranno con questi splendidi capi avranno un numero che non è il numero da gara ma al contrario se vi piace un capo almeno potete segnarvelo e andare direttamente in via Roma Sesto Calente da Eva Rager e dire il numero che di più vi è piaciuto quindi buona visione e vediamo la collezione del 2018-2019 Ciao! 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 Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.